E cari amici, cari amiche, l'estate è arrivata per cui oltre alle migliaia di soluzioni che troverete relative al mondo di casalinghe, articoli da regalo, oggi grazie al punto vendita del 12 siamo lieti di proporvi delle imperdibili e incredibili offerte relative al mondo dell'arredo giardino. Per cui dietro state visualizzando le diverse offerte, cominciate subito a prendere nota perché grazie al supporto concreto, alla storicità, alle esperienze e soprattutto alla vendita assistita avrete la possibilità di trovare esattamente ciò che desiderate, per cui mi raccomando da oggi niente più web, niente più smanettamenti vari perché avrete tutto a portata di mano. Migliaia di referenze vi aspettano e sono lì a vostra completa disposizione per cui prendete subito contatto, non fatevi trovare per la vostra estate spiazzati, ecco perché vi aspettiamo presso il punto vendita il 12.